Consigliere Dolce, lei è stato eletto presidente della quinta commissione consigliare, succede a Manuela Margherita, il presidente uscente, eletto all'unanimità. Qual è il primo passo che farà da presidente di questa commissione così importante perché è una commissione che parla di cultura, sport, spettacolo e soprattutto servizi sociali? Di cosa vi occuperete come primo argomento di un continuum perché già avete lavorato per un anno? Assolutamente, innanzitutto il nostro obiettivo sarà quello di concretizzare tutti i lavori che sono stati messi in cantiere durante quest'anno di attività. In primis il nostro obiettivo sarà quello di definire gli emendamenti riguardanti il regolamento degli impianti sportivi. Dobbiamo fare in modo che le associazioni sportive a settembre avvino le nuove stagioni con un regolamento già pronto. Dopodiché abbiamo intenzione, ne abbiamo già discusso quest'oggi, di lavorare molto più estituamente a una tematica fondamentale come quella della solidarietà sociale. E' chiaro che sono tantissime le tematiche, noi dobbiamo guardare step by step degli obiettivi, dobbiamo porceli davanti e raggiungerli nel più breve tempo possibile. E' chiaro che è un grande onore, devo essere sincero e devo ringraziare tutti i componenti della commissione, sia di maggioranza che di minoranza, che mi hanno dato fiducia. E' un ringraziamento, lo devo anche a chi mi ha preceduto, alla consigliera Margherita, che con grande senso di responsabilità ha fatto un passo indietro per motivazioni personali. Sicuramente non ha allesinato impegno, è un ringraziamento da parte di tutti i componenti, credo sia doveroso nei suoi confronti. Come può servire da pungolo nei confronti dell'amministrazione la vostra commissione? Siete tutti giovani, siete tutti tranne qualcuno, di primo mandato, cosa potete fare per far sì che l'amministrazione lavori meglio? Allora, per come vedo io il ruolo della commissione, deve essere un ruolo propositivo e di controllo rispetto agli atti amministrativi della Giunta. Proprio per questo, oggi, nel momento della mia elezione, ho detto che cercherò di essere il presidente di tutti i componenti, sia di maggioranza che di minoranza. Noi dobbiamo cercare di essere propositivi, non dobbiamo fungere, almeno per come vedo io il ruolo di consiglieri di maggioranza, da stampella necessariamente all'amministrazione. Ma dobbiamo analizzare criticamente ciò che viene fatto e portare avanti delle proposte che sono comunque proposte avanzate da giovani, da giovani consiglieri. E credo che l'aspetto più positivo, al di là delle competenze e delle professionalità che comunque ci sono e sono importanti all'interno della commissione, è quello che siamo tutti componenti molto giovani.